Ci siamo, è la partita che tutti volevamo vedere, Italia contro Polonia. Batte ancora benissimo, bravo Micheleto. L'attacco, il gran muro di Norber, Uber. Nastro, Giannelli, l'attacco di Juri Romano. La palla alpina, la difendiamo con grande difficoltà. Janusz Kaczmarek non tocca a nessuno, sì. La palla, la palla di Kaczmarek va a punto. Micheleto, buona battuta, Zatorski, Kaczmarek, sei! La presa, la presa Daniele Lavia. Buona battuta di Galassi, ma riceve altrettanto bene Fornal. Janusz in 4 su Semenjuk. Tira forte sulle mani di Giannelli. No, in rete. 25 a 21 per la Polonia, con l'errore di Alessandro Micheletto. Russo, veloce, l'attacco del muchacho. 8 a 5. Janusz dal primo tempo su Kokanowski. Janusz, l'attacco di Slewka. La Polonia, dopo 14 anni, torna a vincere l'Europeo.